È stato sicuramente un esordio positivo, la squadra come vi avevo detto nella conferenza pre-gara, insomma mi auguravo e speravo di vedere questo tipo di atteggiamento, la squadra ha messo in campo intensità, ha giocato, ha cercato di proporre sempre, anche quando il Monterosi ha provato a venirci a prendere alti, la squadra ha voluto uscire con qualità tecnica, Insomma è un esordio sicuramente positivo, poi ci sono state sicuramente delle sbavature, ma è normale che sia così, per essere l'esordio è sicuramente un esordio estremamente positivo. Io mi auguro sempre di vedere giocare i ragazzi come li vedo all'allenamento, perché non ho mai nascosto fin dal primo giorno che questo gruppo mi diverte durante gli allenamenti, perché è una squadra estremamente recettiva e soprattutto un gruppo che viaggia veramente a intensità violente e soprattutto mette in campo per ora tanta qualità. Secondo me il gruppo ha ancora ampi margini di miglioramento, perché c'è tanti ragazzi nuovi, la metodologia di allenamento è diversa rispetto al passato, il liceo è un ragazzo che ha delle potenzialità importanti e sta migliorando perché è estremamente attento, è recettivo e nei movimenti già rispetto a quando l'ho conosciuto, il 26 di luglio, il 27 di luglio, già sta cambiando il suo modo di giocare e poi secondo me è un giocatore che può interpretare anche più spazi, infatti poi è stato schierato insieme a Bernardotto. Gabriele è appena arrivato, deve calarsi chiaramente nei nostri meccanismi, nelle nostre idee, viene da un'esperienza con un modo di giocare diverso, però sono sicuramente giocatori estremamente validi e soprattutto sono funzionali al nostro modo di giocare. Paragonandola alla casertana della stagione scorsa, pronti via, siamo nettamente più avanti rispetto al gruppo della casertana dell'anno precedente. All'inizio faticavamo all'anno scorso a mantenere queste distanze, a mantenere questa intensità, soprattutto a trovare queste linee di passaggio che invece questi ragazzi stanno recependo in maniera veloce, complice anche il fatto che secondo me ci sono tantissimi calciatori che per le loro caratteristiche questo modo di giocare è il proprio abito forse più idoneo per poter esprimere le proprie qualità. Però secondo me i margini di miglioramento che ha questa squadra sono veramente ancora molto ampi e io penso che Domenico possa farci vedere ancora tante cose migliori rispetto a oggi perché secondo me ha una qualità eccezionale e soprattutto ha le potenzialità, ha un motore, un'intensità che in Serie C secondo me sono pochi che possono avere. Io mi aspetto da lui anche tanto in termini di gol perché la sua qualità nella rifinitura, nella frenizzazione, nell'uno contro uno, negli scambi stretti è difficile da trovare in queste categorie.